signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale come già annunciato anche questa settimana andiamo a parlare della struttura in tre atti ma questa volta lo faremo per vedere nello specifico come adattarla al d20 system prima però una comunicazione di servizio l'ho già detto uno scorso video lo ripeto anche questa volta tra tre settimane uscirà un video speciale per celebrare il compleanno del canale perché io sono un maniaco e gutista e adoro celebrare questo genere di cose e l'anno scorso ho avuto l'idea di chiedere a voi del pubblico se avevate domande magari non direttamente legate al gioco di ruolo ma domande in generale a me o domande e curiosità sul canale di farme scrivete sotto nei commenti e io poi nel video tra le varie cose avrei risposto anche a quelle domande mi piacerebbe ripetere la cosa anche quest'anno quindi se avete domande scrivetemele io settimana prossima massimo settimana dopo però il video comincerò a girarlo e montarlo quindi se avete domande affrettatevi se le fate troppo in là col tempo ovviamente non appaieranno nel video detto questo torniamo a noi il d20 system è un gioco che ha una struttura veramente molto rigida che richiede quantità fisse di incontri e determinati comportamenti da parte del master per organizzare le quest come si può fare a condensare tutta questa roba per poterla sfruttare in base alla classica struttura in tre atti di qualsiasi altra opera narrativa un paio di settimane fa quando abbiamo parlato delle milestone vi ho detto che è sempre meglio dividere ogni livello in quattro blocchi da quattro incontri dicendo che questi 16 incontri sono un numero arbitrario ma che sarebbe poi tornato utile per altre cose vi lascio il video qua sopra se dovete andare a recuperare ecco oggi vediamo proprio quali sono quelle altre cose per cui avere 16 incontri per livello può tornare utile nonostante gli atti una struttura a tre atti siano ovviamente tre in realtà la storia è divisa in quattro blocchi principali perché il secondo atto viene fondamentalmente troncato a metà da quello che è appunto il climax del secondo atto come abbiamo già detto un personaggio nel d20 system per passare di livello deve superare grosso modo 16 incontri con un grado di sfida pari al suo livello attuale e che il party debba riposare ogni quattro incontri nella pratica dividendo ogni livello in quattro blocchi di quattro incontri a questo punto la sovrapposizione delle due strutture è abbastanza ovvia utilizzando i vari gruppi di incontri come se fossero le parti e una struttura in tre atti otterremo che i primi quattro incontri andranno a formare il primo atto della quest e saranno quindi utilizzati al master per introdurre l'ambientazione e gli elementi principali di quella ambientazione che i giocatori devono conoscere i secondi quattro atti andranno a formare la prima parte del secondo atto in cui gli avventurieri guadagneranno nuovo equipaggiamento informazioni su quella che sarà la storia che stanno andando a raccontare con l'ultimo dei quattro incontri di questo blocco che sarà molto probabilmente l'elemento catalizzatore o climax del secondo atto i quattro successivi formeranno la seconda parte del secondo atto e saranno più duri con conseguenze più significative probabilmente uno di questi sarà il secondo plot point dell'arco narrativo principale e infine gli ultimi quattro diventeranno il terzo atto in cui ovviamente si arriverà alla risoluzione finale del conflitto con l'ultimo il penultimo incontro che molto probabilmente saranno quelli contro l'antagonista principale di tutta la quest sì una grossa serie di termini tecnici ne abbiamo già parlato nel dettaglio l'anno scorso e una serie di video dedicati a struttura in tre atti se dovete andarvelo a recuperare vi lascio il link sotto a ogni singolo video in cui vengono spiegati nel dettaglio i vari elementi di ogni atto ovviamente questa sovrapposizione non è da intendersi come una struttura rigida potreste voler mettere più incontri in un atto e meno in un altro o aumentare proprio il numero degli incontri o diminuirli facendo soltanto tre incontri o magari cinque incontri per ogni atto personalmente io spesso applico questa struttura ma raddoppiando proprio il numero degli incontri in modo da avere 16 incontri e il passaggio di livello in contemporanea con il climax del secondo atto in modo che ci sia quel aumento di valore aumento di capacità del personaggio in contemporanea con l'inizio della parte più dura con l'azione più stressante per facilitare i giocatori potreste anche voler spostare prima il momento del passaggio di livello se questa quest è l'ultima quest di un ciclo o è una quest a se stante dopo tutto non ha senso che gli eroi passano di livello dopo aver superato l'ultimo incontro se dopo l'ultimo incontro non c'è niente e quindi non hanno modo di utilizzare le loro nuove capacità anche in quel caso sarebbe magari il caso di spostare il livellamento prima anche se non hanno effettivamente raggiunto la loro quota di incontri prefissata molti di voi mi hanno chiesto sia nei commenti sia in privato quanto devono scrivere per una determinata quest ecco questo schema è esattamente quello di cui avete bisogno tenetelo presente mentre state scrivendo decidete quanti incontri volete fare che siano 16 che siano di più di meno non è importante però almeno adesso avete uno strumento che vi dirà in base a quale momento della storia quanti e quali incontri qualche quali mostri dovete preparare e avendo lo schema davanti agli occhi eviterete di dimenticarvi delle parti o inserire delle parti ridondanti nella mia esperienza consiglio di utilizzare almeno all'inizio 16 incontri perché quello che ho visto con i miei tavoli sembra essere il numero giusto per non far annoiare i giocatori facendoli restare troppo allo stesso livello ma d'altra parte dagli abbastanza tempo per familiarizzare anche perché saranno magari un paio di mesi di gioco con due incontri a serata cosa del genere quindi i giocatori avranno anche il modo di familiarizzare bene col proprio personaggio con quale sia effettivamente quello che può fare quello che non può fare prima che gli vengano aggiunte ulteriori abilità che potrebbero mandare in confusione soprattutto se è un neofita non è molto esperto nel gioco e quindi troppe informazioni a scadenze troppo ravvicinate potrebbero farlo scopiare il tipo e la quantità di questi incontri deve variare anche in base al tipo di storia che state raccontando come abbiamo visto nel video della settimana scorsa la struttura in tre atti non serve solo a raccontare storie autoconclusive ma potrebbe essere parte di una struttura in tre atti più vasta un'intera struttura in tre atti potrebbe ad esempio essere il primo atto di una struttura in tre atti più grossa in questo caso tutti gli incontri all'interno di quella struttura dovrebbero rappresentare un qualche momento in cui i personaggi imparano qualcosa di nuovo sulla meditazione apprendono nuove informazioni o comunque in quanto è un primo atto ai personaggi vengono date informazioni che serviranno più avanti per la comprensione del mondo di gioco magari l'ultimo incontro o l'ultima serie di incontri di quella struttura saranno l'epilogo di quel primo arco ma rappresenteranno anche l'incidente iniziale della struttura superiore quindi la chiamata all'azione per i personaggi per andare ad affrontare quella che è la vera minaccia parlavamo la settimana scorsa del scoprire quali sono i reali piani del signore del male e cominciare la quest vera e propria per andare a sconfiggere l'intera struttura però potrebbe rappresentare la seconda parte del secondo atto in cui il primo incontro i primi incontri sono il climax del secondo atto quindi il punto di non ritorno in cui gli eroi vengono sconfitti e sembra che il signore del male stia per conquistare il mondo con le sue armate del terrore la falsa vittoria del punto di svolta del secondo atto e magari il sesto settimo incontro saranno un plot point e gli ultimi incontri saranno il punto di svolta che porteranno poi alla prossima struttura che rappresenterà poi il terzo atto con l'incipit del terzo atto in base a quanto volete che la storia sia lunga e complessa dovete regolare su dove andare a spostare i vari punti chiave della struttura in tre atti in modo che ricadano con uno degli incontri previsti dalla struttura dei quattro blocchi mettiamola così diciamo che per questo video è tutto come sempre se avete domande dubbi perplessità scrivetemelo nei commenti qui sotto scrivetemi anche se avete domande per il video speciale del complanno nel canale sarà tra tre settimane quindi sbrigatevi settimana prossima quella dopo io starò già montando continuo a ripeterlo sono una persona ansiosa lo so ovviamente voglio sapere anche se voi utilizzate questo schema se non lo utilizzate se ne utilizzate uno migliore condividete con gli altri quello che secondo voi è la cosa migliore da fare e spiegate anche il perché come sempre mettete un like e condividete il video se vi è piaciuto in modo da far crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdere i prossimi video che usciranno io sono il master kai e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao